Vincere questa fascia cede direttamente alle pre-finali del concorso la concorrente con il pomero 14 Rosi Rossi. Passa e accede direttamente alle finalissime la concorrente con il numero 16 Maria Rosaria Festa. Si aggiudica il passaggio alla finalissima di questo concorso la concorrente con il numero 22 Mara Pollonini. Si aggiudica un passaggio alla pre-finale di questo concorso la Miss terza classificata con il numero 13 Fiorezza Ravasio. E si aggiudica il passaggio in pre-finale quindi come seconda classificata la concorrente con il numero 20 Antonella Soligo. Passa alla finale di Lady Show 2019 la concorrente con il numero 15 Silueva. Quindi seconda classificata sempre si aggiudica un passaggio in pre-finale e continuerà le varie tappe. La concorrente con il numero 13 è la concorrente con il numero 8 Giunzi La Rosa. La concorrente con il numero 12 Giunzi La Rosa. La concorrente che si aggiudica il passaggio in finale e vince la prima classificata è la concorrente con il numero 12 Giunzi La Rosa. La concorrente con il numero 12 Giunzi La Rosa. Ciao!